E questa mattina ci spostiamo a sud della nostra Puglia, a Dothranto, dove da domani fino al 9 settembre andrà in scena il Festival Giornalisti del Mediterraneo. È arrivato alla sua quindicesima edizione. Siamo collegati via Skype con organizzatore e giornalista Tommaso Forte. Buongiorno Tommaso, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per l'invito e per l'ospitalità. A te grazie, sei in una stanza d'albergo, ti abbiamo proprio bloccato per dieci minuti ma non potevamo non parlare di questo Festival, è arrivato alla sua quindicesima edizione. Allora, posso chiederti come nasce questo Festival Giornalisti del Mediterraneo, Tommaso? Nasce dalla piena consapevolezza di dare il proprio contributo alla categoria dei giornalisti. Sì, avevo riscontrato nel corso degli anni che mancava appunto in Puglia un laboratorio su cui discutere dei temi legati alla professione giornalistica. Accanto a questi temi abbiamo elaborato altre proposte legate al Mediterraneo e quindi abbiamo pensato di non parlare del Mediterraneo come luogo di tragedia, ma luogo di opportunità. Sappiamo che il mare porta ricchezza non solo legato al turismo ma anche legato alla logistica e ai trasporti e questo appunto è un punto di forza del nostro territorio. Stiamo vedendo le immagini dell'edizione del 2022. Come ci dicevamo prima avete scelto Otranto perché è davvero una città accogliente e infatti dicevi che a volte c'è anche difficoltà a gestire l'accoglienza perché tutti gli ospiti che magari sono venuti anche gli anni precedenti tornano con grande piacere, perché è un festival fatto di relazioni soprattutto. Sì, di fatto è così. Abbiamo un problema di fondo, è quello di gestire le presenze. Quest'anno sono oltre 105 giornalisti presenti ad Otranto. Ci tengo a precisare che abbiamo una partnership importante con Radio Vaticana, Vatican News, la RAI, ANSA, ANSA Med, Fanpage, Giazzezza del Messogiorno, Lego di Bergamo, Avvenire. C'è tutte testate importanti. Manchiamo noi, Tommaso. Il prossimo anno ci siete e lavoriamo insieme su un progetto legato ai temi di competenza. Nessuna difficoltà, io sono molto aperto al dialogo, al confronto. Del resto lo spirito del festival è quello di creare le relazioni, quindi di creare la rete di connessione. E credo che la vostra emittente abbia tutte le caratteristiche, le qualità professionali per lavorare insieme. Grazie, Tommaso. Allora, quali sono i temi che saranno trattati in questa quindicesima edizione? I temi sono rilevanti e sono di carattere nazionale. Ad esempio, noi quest'anno faremo un panel sulla satira politica. Inviteremo il direttore di Lercio, conosci benissimo quel giornale online che racconta bufale. E avremo proprio Eddie Settembrini, che è il direttore di Lercio.it. Avremo il vignettista del Fatto Quotidiano, Stefano Disegni. Avremo Federico Palmaroli, le frasi di Oscio. E cercheremo di capire come, insieme a loro, come la politica ne ha un vantaggio dalla satira, ma ne ha anche una critica. Perché non tutta la classe politica è pronta alla critica politica. Ci sono alcuni che riescono a tuttire il colpo, altri invece che provvedono con querele temerarie. Quindi vale la pena raccontare la politica con la satira? Ecco, di questo parleremo durante il festival. Non solo. Di rilievo avremo anche il vice ministro della giustizia, l'onorevole Siste, con la quale con lui affronteremo il tema della riforma cartabbia. Sei perfettamente che sei una collega e con la riforma cartabbia i giornalisti sono stati decapitati da un punto di vista del racconto dei fatti. Oggi la competenza spetta solo al capo della procura, che di fatto è un magistrato e non è un giornalista. E quindi è solo lui a decidere se la notizia può avere un interesse pubblico. E quindi in questa settimana appunto parleremo di questi temi. Aggiungo, per la prima volta siamo riusciti a chiudere un accordo con la Marina Militare per raccontare le esperienze del Mare Nostrum, per raccontare appunto che cosa accade nel Mediterraneo attraverso la prevenzione. E quest'anno la Marina Militare ormeggerà nel porto di Oltranto un sottomarino impegnato appunto nelle zone di conflitto, per far capire quanto è importante la tecnologia anche nelle zone di guerra. Ci saranno anche dei giornalisti premiati in questa edizione 2023? Beh, sicuramente abbiamo importanti giornalisti come Niccolò Zagan della Stampa, Corrado Zunino, giornalista di Repubblico inviato di guerra, al quale è stato ucciso un suo collaboratore durante appunto un servizio giornalistico svolto a Kiev. Avremo Alice Martinelli delle Ieni, avremo anche una sorella, una suora, medico, impegnata, anche una giornalista impegnata durante il Covid a salvare le vite umane. E poi di rilievo avremo anche Angelo Macchiavelo, storico giornalista, inviato delle reti media, sete nelle zone di conflitto. Tra l'altro, e aggiungo, avremo anche la presenza dell'ambasciatore del Barin. Il Barin è un paese che è proprio confinante col Qatar. Il Festival è diventato in questi anni anche un laboratorio economico, politico, geopolitico, in cui molti ambasciatori, ad esempio nel corso degli anni sono venuti gli ambasciatori di Turchia, Spagna, Francia, Marocco, Tunisia, Algeria, proprio per avviare dalla città di Oltranto quel laboratorio geopolitico per rafforzare le relazioni internazionali. E ogni anno abbiamo sempre la presenza di autorevoli istituzioni, come ad esempio due anni fa abbiamo invitato Edirama. Edirama si è presentato ad Oltranto, senza che noi lo sapessimo, con quattro ministri e due sindaci. C'è stato un evento veramente internazionale, richiamato da tutta la stampa. Questo è il Festival. Abbiamo visto delle immagini proprio all'arrivo di Edirama. Siete quasi maggiorenni, Tommaso, perché il Festival è la sua quindicesima edizione. E come te lo immagini tra qualche anno alla soglia della maggior età? Dunque, noi prima del Covid avevamo chiuso un accordo con il Comune di Milano e il Comune di Roma per portare questa caravella che parte dalla Puglia sia nel Lazio che in Lombardia. A seguito del Covid chiaramente si sono interrotte un po' tutte le relazioni per le ovvie conseguenze che conosciamo tutti. Da quest'anno abbiamo incominciato ad avviare i contatti per portare questa caravella che parte dalla Puglia e va a Roma e a Milano. Ovviamente mi piacerebbe se in questo progetto ci fosse anche la vostra emittente. Bene, grazie. Sicuramente abbiamo lanciato i semi per una collaborazione, caro Tommaso. Hai parlato di caravella, questa caravella. Infatti il premio che consegnerete è proprio il premio Caravella. E' giusto. Aggiungo, abbiamo preso contatti a seguito di un progetto Interreg anche con la città di Corfu. Quindi stiamo elaborando un progetto per realizzare il festival nella città di Corfu e grazie ad una serie di giornalisti marocchini che sono sempre stati ad orto stiamo lavorando su un progetto per portare il festival anche a Tangeri, quindi a Marrakesh nel Marocco. Abbiamo veramente messo, fissato i pilastri, abbiamo avviato le relazioni e credo che porteremo i frutti a casa. Ma tutto questo progetto ovviamente valorizza non solo l'attività istituzionale, ma valorizza la professione giornalistica e le relazioni internazionali. Questo è il festival. Questo è il festival dei giornalisti del Mediterraneo, da domani al 9 settembre a Dothranto. Per i non addetti ai lavori o anche per i colleghi giornalisti che non potranno essere a Dothranto, Tommaso, come e dove vi possiamo seguire? Sulla pagina social di Facebook, Festival giornalisti del Mediterraneo 2023. Benissimo, allora vi seguiremo e poi magari ci sentiremo tra qualche settimana per tirare le fila, le somme di questo evento. Dal 6 al 9 settembre a Dothranto, quattro giorni di confronto e riflessioni profonde sull'attualità e sugli scenari a venire. In bocca al lupo, grazie a Tommaso Forte, giornalista e organizzatore del festival dei giornalisti del Mediterraneo. Ciao, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, grazie ancora. E allora, noi ci fermiamo, ancora linea alla regia, breve pausa e poi torneremo di nuovo insieme.